oh guarda questo video belle visto, i Facebook ehhhhh e poi cadendo tutti i bacassi e a te che ti dai il permesso di venire a raccattare le castaglie del mio, il mio è il castagneto poi a novembre un cento guarda lai che danno, via questo che qui è e lo so a memoria senti ragioniamo di cose serie a te che ti interessa l'olio ho fatto l'olio nuovo lo favo 12 kg fammi sapere se ti interessa perchè lo sto finendo quest'anno si fa più caro perchè non è più caro capito non è piovuto allora ce n'è pochino e gli è piovuto poco no lo figlio da un lato o come come da un lato scusa che tu lo figlio quanto a te lo fa si e me lo fa 7 il chilo te te lo sarò poco caro 12 capersi il capo 7 me lo fa 7 il chilo e sentissimo che è buono anche sto gli avventosso gli è bello pizzetto non è toscano gli è piede delle fuglie ma gli è buono il medesimo tutti gli anni sa più caro sempre una scusa questa non piove dell'altro no ma che momento è quello di montarbano con quello lì